Sulla riforma del trasporto unico locale, approvato dal Consiglio regionale, arrivano le critiche di Forza Italia, che per iniziare ne rivendica la paternità, affermando che era stato proprio Gianni Chiodi a dare l'avvio al processo di fusione. E poi indirizzano una critica diretta al sottosegretario alla Presidenza, Camillo D'Alessandro. A lui avevano chiesto 10 garanzie per il futuro della gestione della nuova società unica, che tutelasse lavoratori da un lato e utenti, e oggi si dicono insoddisfatti delle risposte. Intanto cerchiamo di capire chi sta dichiarando e chi sta parlando. Stanno parlando coloro i quali hanno avuto 66 mesi di tempo a disposizione. Hanno approvato una legge nel 2012 che prevedeva la Società Unica dei Trasporti, tra l'altro era un emendamento del PD, approvato dalla maggioranza. Questo emendamento del PD è diventato legge e doveva diventare anche un fatto la Società Unica dei Trasporti, ma la Società Unica dei Trasporti non si è mai fatta. 2012, 2013, 2014. E dunque ci dobbiamo pensare noi. Non solo avevamo fatto una legge che praticamente avrebbe portato a fallimento certo sangrità nella funzione del ferro, noi oggi nella Società Unica dei Trasporti mettiamo tutto il trasporto pubblico locale gomma ferro, anche per la grande partita della intermodalità. Noi in sei mesi abbiamo fatto ciò che loro dovevano fare in 66 mesi. Questa è l'unica risposta possibile. Qualche volta farebbero meglio a tacera.